Qualche settimana fa Alessandra Moroso si è dovuta sottoporre ad un intervento alle corde vocali. Dopo l'ultimo controllo con il medico è stato appurato che la cantante dovrà stare lontana dai microfoni, palchi e stadi per qualche mese ancora. Arriva però su Facebook un messaggio di incoraggiamento che vale un po' di più rispetto a quello dei numerosissimi fan che la seguono da anni, non fosse altro perché a scriverlo è Fiorella Mannoia. «Sono molto dispiaciuta di non poter festeggiare sul palco questa fine di tournée con lei», scrive sul suo profilo Facebook. «Avrei voluto ritrovare le stesse emozioni cantando insieme la Sera dei Miracoli. Alessandra annuncia ancora sul suo profilo, ha deciso di essere presente allo stesso alla mia festa, con mio grande piacere, a Verona ci sarà. Rimettiti presto, amica mia», dice. «Vogliamo risentire la tua voce più bella di prima». Non si fa attendere neanche la risposta altrettanto affettuosa dell'interprete Salentina che scrive «Grazie Fiorella, sarò a festeggiare con te tra la gente che ti ama. Non me lo sarei perso per nessuna cosa al mondo. Ma tu questo lo sapevi già», dice Alessandra. «Un abbraccio e ci vediamo a Verona. Porto le carte di Burraco, ti voglio bene». Grazie a tutti.